Siamo riusciti a tenere in piedi la questione prioritaria del disagio sensorale e motorio con l'assistenza ai disabili. Così le presenta la regione Rosario Crocetta all'indomani della delibera di giunta che destina 12 milioni da suddividere ai soggetti portatori di handicap alle scuole e al turismo. È stato così mandato in soffitta lo storico lungo elenco di sigle vicino ai partiti, per anni terreno di sconte di battaglie in aula all'Ars nell'ambito della manovra economico-finanziaria e questa volta per accedere ai finanziamenti gli enti interessati hanno partecipato ad un bando. La fetta più grossa dei contributi è andata al Dipartimento Famiglia e alla pubblica istituzione, mentre al terzo posto troviamo il Dipartimento Turismo seguito dai beni culturali. Tutti in pratica hanno dovuto rinunciare a qualcosa, anche se ad esempio l'assessorato alla famiglia sta cercando di confermare le somme percepite l'anno scorso. Sono invece una decina i consorsi di ricerca che godranno dei fondi assegnati al Dipartimento Interventi Strutturali in Agricoltura, assessorato e guidato, come è noto da Dario Cartabellotta, soddisfatto nel complesso lo stesso governatore siciliano. Abbiamo tolito in piedi, ha tenuto a rimarcare, la questione prioritaria del disagio sensorale motorio, un budget questo che dovrebbe essere alzato.